Oggi una giornata molto intensa e particolare al memorial dedicato all'arbitro e appassionata di basket Maria Rosaria Santese. Dopo la benedizione del campo, una canzone dedicata alla giovanissima, prematuramente scomparsa, con tanti batti paiesi, amici e parenti che certamente affoleranno il campo di basket. Subito dopo il basket giocato con i ragazzi under 18 e delle gare tra genitori e figli che giocano a palacanestro. Infine sul palco la proiezione di un video e la musica che Maria Rosaria tanto amava con varie band che si esibiranno dal vivo. Il tutto in attesa di domenica con le finali e le premiazioni, ma ascoltiamo il ricordo di due amiche di Maria Rosaria, Beatrice Rago e Simona Corvo. È il primo anno che organizziamo questo torneo e sicuramente è un'emozione fortissima, avremo un ricordo intenso di questi giorni e speriamo che possa esserci una grande affluenza. In ogni caso ci stiamo godendo questi giorni, ringraziamo i partecipanti tra allenatori e giocatori e quindi sarà domani. Potrà esserci qualcosa per ricordarla nel migliore dei modi. Ci sarà ovviamente musica, un video, tanti ricordi. Si verrà cantata la canzone che un ragazzo ha scritto proprio per Maria Rosaria e questo insomma in questi giorni abbiamo proprio l'onore di ricordarla nel... insomma. Siamo alla quarta giornata di questo torneo e come ha detto la mia amica ci stiamo godendo queste emozioni che ci stanno trasmettendo i giocatori perché sono venuti numerosi a partecipare al torneo e la nostra più grande speranza è che ogni sera ci saranno molti ragazzi e soprattutto tutti gli amici di Maria Rosaria perché ci stiamo impegnando per far sì che venga tutto bello e emozionante. Ringraziamento speciale a Lucia che è l'organizzatrice che ci sta facendo un po' da mentore insomma in questi giorni quindi un grazie a Lucia.